Questa è la storia di Annetta Di Bucci, due sorelline ebree di 4 e 6 anni che vedono la loro vita cambiare a causa delle leggi antiebraiche e della loro deportazione nel campo di concentramento. La storia racconta i loro viaggi in treno, ammassati come animali, la separazione dalla mamma, dalla nonna e dalla zia. Le giornate interminabili del campo di concentramento dove soffrono il freddo e la fame e la perdita del cuginetto Sergio. E infine la liberazione del campo di concentramento grazie all'esercito russo e il ricongiugimento con i genitori che non avevano mai smesso di cercarle. Questa storia ci ha fatto provare tante emozioni che abbiamo voluto esprimere nei nostri disegni e nei nostri testi. Chissà di Bucci, due sorelline ebree di 5 e 6 anni che abbiamo voluto esprimere nei nostri testi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.